Bentornati amici miei con i video horror del sabato. Avete mai sentito parlare di Nicolair Anzaltin Kovar? No, Anzaltin Kovar nasce il 22 marzo del 1730 in Russia. Nicolair era una ricca proprietaria di terreni. La donna entrò nella storia come la sofisticata sadica serial killer, questo perché uccise più di 100 persone. Periodo degli omicidi 1755-1764. I metodi di uccisione furono tortura e aggressione fisica. Nel 1768 la donna fu privata della dignità di nobile donna e fu nata a morte. In seguito però la sentenza è stata cambiata in ergastolo. La donna morì il 27 novembre del 1801 in circostanze misteriose. Gli ultimi abitanti di quel villaggio hanno raccontato di sentire le urla strazianti delle povere vittime. Molte di loro forse seppelliti proprio in quel punto. Il canale Ghost Paranorma ha deciso di andare sul posto per verificare se tutto ciò che viene detto su quel luogo sia vero o falso. Arrivati sul posto vengono installate delle telecamere dentro una casa. Dopo qualche minuto le telecamere riprendono una strana sagoma trasparente. Dalle immagini sembrerebbe una donna. Forse lo spirito della nobile donna infastidita da quell'intruso. a un certo punto delle riprese il ragazzo nota una porta. Dall'altro lato della porta si sente bussare. Come se qualcuno volesse entrare. a un certo punto di salita da qua. le indagini si spostano fuori dove si incominciano a sentire delle urla strazianti ciò che succede dopo farebbe scappare anche l'uomo più coraggioso un qualche essere sovrannaturale si lancia contro l'uomo stanco di quei fenomeni l'indagatore del paranormale raccoglie tutti i suoi attrezzi e decide di abbandonare l'indagine devo dire che questo filmato mi ha messo un bel po' d'anzi la parte che mi ha spaventato di più è stato quando l'essere ha tentato di aggredire il ragazzo ci vuole veramente coraggio per andare soli di notte in un villaggio maledetto come quello spero che il video vi sia piaciuto noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao